Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò della Repubblica di San Marino. Buona visione! San Marino, ufficialmente Repubblica di San Marino, è il terzo stato più piccolo d'Europa, senza sbocco sul mare, e si trova all'interno dell'Italia. La capitale è città di San Marino. La lingua ufficiale è l'italiano. Gli abitanti sono chiamati sanmarinesi. Il territorio ha la forma di un quadrilatero, irricolare, con il rilievo prevalentemente colinare, ad eccezione del Monte Titano, alto 739 metri sul livello del mare. È costituito da una massiccia placca di calcari arenari. L'indipendenza della Repubblica di San Marino ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo, tuttora esistente. Una tradizione fa risalire la sua fondazione al 3 settembre 301 d.C., quando San Marino, fuggito dalle perseguzioni contro i cristiani dell'imperatore romano Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano. La proprietaria della zona, una ricca donna di rimini, donna felicissima, donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità. La proprietaria della zona, una ricca donna di rimini, donò il territorio del mondo, tuttora esistente. La bandiera di San Marino fu adottata il 6 aprile 1862 ed è composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni, quella superiore bianca che simboleggia la libertà e quella inferiore azzurra che simboleggia il cielo. Lo stema di San Marino raffigura Monte Titano. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi, mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.